E bello a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Ragazzuoli, nella nuova season di Fortnite che è arrivata proprio qualche giorno fa Hanno inserito un nuovo assalto che mi ricorda vagamente il vecchio Scar Quindi ragazzi, finalmente hanno messo un assalto che per me è come se fosse il nuovo Scar È veramente una bestia, ha 20 colpi, arriva fino alla rarità leggendaria e fa un danno veramente insano E in questa partita andiamo a vedere tantissime cose Oltre al fatto che abbiamo sbloccato l'ombelino della vittoria che è bellissimo Abbiamo fatto 20 bombe di squadra e abbiamo giocato con il nuovo Scar Quindi questa partita ragazzi è veramente sublime E solo per questo motivo mi raccomando spolliciate più in un posto a questo video Iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della season di Fortnite Oltre al fatto ragazzi che vi ricordo, dato che comunque appunto nuova season, nuovo pass battaglia Se volete supportarmi nello show potete farlo appunto utilizzando il codice creatore CROATOMIST Taggatemi in una stories di Instagram mentre che fate la vostra show pazzata Così che almeno io posso ripostare la vostra stories E ovviamente mandarvi anche un messaggino nei direct su Instagram Oltre a questo mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle ore 17 Quindi specialmente che ora c'è la nuova season di Fortnite Ci saranno maratone su maratone di Fortnite Quindi non mancate ragazzi, trovate il link qui sotto in descrizione Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché c'è veramente tanto da vedere in questa partita Quindi ragazzuoli una buona visione Grotto, perfetto Ci sarà gente, sarà divertente Sì Voglio andare subito al bunker però io Non prendo la zippa e vado direttamente verso il bunker Nella speranza che sia una bella idea Martina 109 morto uno Sono verso il bunker io Sono dal bunker Il problema è che senza te io non ho armi però Lo so, sono qui Ti vedi? Sì Ah no, ci sono solo due dropper Quindi l'ha nerfato Il bunker è inutile praticamente Beh, oddio Davanti a me Qua sotto da me Distrutto, distrutto bro One tappet baby Gendo dietro, gendo dietro Aspetta, non mi piace la sita 108 morto Gendo ancora Ma è pieno No, nel sano bunker Arriva, arriva 100, 100, morto 100, l'ho distrutto, one, sotto proprio 8, 43 Gendo Sono morto Devo salvare un attimo Mi cura Tu la devi fare, tu la devi fare, tu la devi fare Minchia, raga, l'ho riscato tantissimo Sono quasi morto Raga, sono salita con quel voto Ho detto Ecco la c***a, l'ho fatta Se ci stiamo facciamo a tre di uno Niente, vanno a farlo da dietro 54 Morto Uè, tutto bene? Volevi assaggiare? Appena assaggiato Arrivederci Ci vediamo alle 4 e mezza Aio Cioè, hanno fai dato Eccoli là La, 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 la Rebutta, rebutta Perci, vuole rebutare Sì, 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 sì Vada, signorina Lo pusci C'è da dentro È stato bravo 32, crackato Si pulsa Guarda, mi ha tirato Una scelta, madonna Lui è white Qua Ho dentro 108 Matto Wihii Anche, ragazzi, avete visto? Cioè, qui, avesse avuto l'OG Quando lui ha paddato L'avrei ucciso 30 volte Con lo scari in full spray Non prendi un hit L'amico con le armi è qui Mortuna Ah, questo era La realtà Quello, quello, quello Quello restato L'ho appena ucciso Lo vedi? Dovrebbe essere verso Eccolo qua, eccolo qua Verso pinnacoli Arrivo Arrivo Sto arrivando Eeeh Tutto bene? Allora, fra Se c'è un altro rift Mi faccio la pelata Te lo giuro Mi taglio i capelli live Ueeh Allora, non mi build Se mai arriva un singolo shot Vi giuro Spacco il mouse Ok, a posto Non stacco il mouse 150 euro di mouse risparmiati Ottimo Fantastica Ciao, stronsa Dai, sali Allora, ma questa La dobbiamo vincere Ah, c'è di rio Lì, nel 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 Qua Qua Stavo andando 30 20 Ah Mi ha lasciato quello là Bella forte Starmetta, raga Gente qua? Stanno a camperatico sotto Ok, scusate, sono in realtà sopra di me Like è mio Mi sto dando fastidio Così non sale E mentre arrivo No, che hai presato? Qui 100 Morto uno Voglio capire ragazzi La storm sickness Dopo quanto tempo ti arriva? Cioè, ce l'hai subito? Penso che posso vedere Magari Un'immaginine Come debuff Da qualche parte Se no E' no senso Sì, io penalizzerei Io penalizzerei Lenni Infatti Non Non lirmi O farlo Ma resta fino di qua La terza sedia Poi basta Voglio non pedare questi Già lo so 3 Devo curare Continua a correre Continua a correre Amo, la sedia No La sedia La sedia Amo Che ricordi La seggiolina No, non ho rimesso la sedia Raga No, il cuore Che bello Vedi, è proprio per te Vedi Ah, questo è il cam... Il coso di Dusty Hanno fa... Vedi, deposito spostato Vedi, deposito spostato Questo è Dusty Depot E' il coso di Dusty Depot No, raga Impazzisco Dusty Depot Dusty erano tre Però è quello di Dusty Comunque, figo Ah, a proposito Un'altra cosa Che forse non sai Mi sa che deve tornare Il tipo il The Block Davvero? Torna? Sì, sì, sì Il The Block Ah, che non ti torna Lo conosco Perché so cos'è il The Block Ovviamente Eh, dovrebbe tornare Eccoli Craccato con l'ultimo Esatto, lui Spara dietro Gli alti con lo Scar Non mi sono un colpo Allora 75 Craccato 20 white Da... Eh? No Altro team Altro team Altro team Sto spaccando i muri questo qua Devo uscire quindi mo Se attiviamo qual è il muro Lo impazziamo e lo... Sarà quello frontale Sanno me Anzi Non è accadono Non è accadono Vado a prendere i finish Cominciare i 50 Craccato questo No, dammi... Oh, aspetta Altra gente Arrivano Non è vero C'è anche lui Siamo bravi, mi sa Like è mio, like è mio, like è mio 34 Fatto La Lara Sono morta Devo guardare Devo guardare Mi sento una one shot Ti giuro Gli ho preso un sacco di danno Craccata da questa No, l'altro team No, l'altro team Sta restando Io ho bloccato i rest Morta anche il finish Craccato Let's go 20 kill win Let's go Let's go baby 20 kill win Scappiamo dalla situazione tragica E se win così Andiamo a vedere l'ombrellino Instant della vittoria Vai, andiamo a vedere l'ombrellino È molto bello No, è bellissimo È tipo... È tipo... Sì, è letteralmente tipo Quell'albero tipo che c'è al centro Quello là, hai visto quello di prima? Quell'albero con tutte le cose Fiore della balla Bellissimo Equipaggiamo Equipaggiamo GG per l'ombrellino ragazzi GG per l'ombrellino Bene ragazzi Siamo giunti al termine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Come avete visto abbiamo fatto una partita bestiale 20 bombe Ombrellino Abbiamo provato il nuovo, diciamo, scar Raga, una partita bestiale Quindi mi raccomando Se l'avete ancora fatto Spolliciata più non posso E vi ricordo ragazzi Che mi trovate in live Tutti i giorni Sul mio canale Viola Dalle ore 17 Quindi ragazzoli Non mancate Io vi aspetto Ma ora ragazzi Per questo video è tutto Noi ci ribicchiamo Ovviamente in un prossimo video Dalla vostra Coratomist è tutto Bella a tutti ragazzi Noi ci ribicchiamo